Ciao ragazzi, oggi dopo essermi svegliato ho acceso il telefono e finalmente dopo tanto tempo sono riuscito a trovare una notizia anime che è stata davvero una bomba perché finalmente la quarta stagione di Food Wars, un anime che in tantissimi stavamo aspettando e che purtroppo non era più sicuro potesse avere una nuova stagione dopo il famoso calo che sta subendo il manga e che a breve terminerà, in ogni caso è arrivato Prima di iniziare a parlarne vi tocca cliccare sulla campanellina per non perdere i video e lasciare un like, detto ciò possiamo iniziare Le notizie sono praticamente due, due notizie che però ci rendono felicissimi Prima di tutto, come vi avevo già anticipato, la nuova stagione di Food Wars prodotta come sempre da JC Staff che quest'anno si sta sovraccaricando di lavoro in una maniera incredibile e quindi speriamo che comunque con Food Wars non abbasserà il livello grafico che fino ad ora è stato accettabile, un livello abbastanza medio, standard, che andava benissimo e comunque la quarta stagione è stata ufficialmente confermata La seconda notizia è che invece uscirà direttamente quest'anno, precisamente ad ottobre Il titolo di questa quarta stagione sarà Shokokaki no Soma Shin no Sara ed è molto probabile che questa quarta stagione andrà ad adattare tutto l'ultimo arco narrativo che è presente nel manga quindi potrebbe addirittura essere l'ultima Il tutto ovviamente è stato annunciato su Weekly Shonen Jump numero 29 tramite questa immagine che appunto è chiarissima Detto ciò ragazzi, io sono davvero felicissimo che Food Wars avrà questa quarta e forse anche ultima stagione Fatevi sapere invece voi cosa ne pensate Sinceramente non mi aspettavo riuscisse ad arrivare così presto ma dopo il calo stesso del manga non mi aspettavo che l'anime comunque riuscisse a continuare Fatemi sapere la vostra opinione a riguardo, lascio il video che vi è piaciuto Iscrivetevi e se non ci vediamo in un prossimo video Iscrivetevi e iscrivetevi e iscrivetevi e iscrivetevi e iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale